perdutamente innamorato 16 anni lui 17 lei il giovane in compagnia di un amico aveva convinto l'ignara ragazzina vicentina a fermarsi in un bar per un aperitivo poi con l'inganno i due amici l'avevano portata a casa di uno dei due l'innamorato per poi tenerla segregata per l'intera notte mentre il 16enne le professava tutto il suo amore ma in vano il giorno dopo la ragazza è stata liberata e con la famiglia a sporto denuncia ora i due giovani amici a tre anni di distanza da quella folle notte andranno a processo davanti al tribunale dei minori di venezia